Buongiorno di nuovo, siamo con il primo cittadino di Comuneria di Sindaco Petrangeli, siamo in questa occasione importante di più in città, il comune si presta ancora di più a essere vicini alla mobilità più facile. Sì, assolutamente, noi siamo dei sostenitori della mobilità sostenibile e della ciclabilità della nostra città e abbiamo investito molto su questo, sia con il nuovo piano del traffico e soprattutto al centro storico, sia con un progetto che quello del bike sharing che partirà proprio entro il mese di maggio. Bene, sicuramente tu prete l'erario? Sì, assolutamente sì, sono contento che ci sono tante persone, questa è una città bike friendly perché è una città che si può girare in bicicletta, che si può girare facilmente a piedi, noi vogliamo promuovere la mobilità sostenibile che fa bene alla salute, fa bene all'ambiente e fa bene anche al portamoglio che ci permette di risparmiare. Le prossime iniziative per rendere ancora più terribile la città, cosa saranno? Beh, appunto, l'ho detto, il bike sharing, l'ampliamento della pedonalizzazione del centro storico perché alla fine dei lavori del centro storico avremo tutto un centro completamente pedonalizzato e poi lavorare affinché anche nei quartieri periferici ci siano delle aree pedonali dove sarà possibile anche per esempio per i nostri bambini giocare in sicurezza. Bene, buona pedanata, grazie anche a voi. Di nuovo auguri alle mamme, auguri.